Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tele9 con il nostro TGN che si apre con un dibattito acceso che si è creato oggi a Milano con sullo sfondo, anzi sulla ribalta, una statua. La statua che raffigura una madre che allatta e che è stata bocciata da una commissione interna al Comune di Milano scatenando anche la reazione dello stesso sindaco. Ci fa il sunto di tutto. Paolo Pirovano in questo servizio. La statua di una donna che allatta al seno un neonato ha spaccato in due la politica milanese. L'opera, dal titolo Dal latte materno veniamo, che i familiari della scultrice Vera Omodeo vorrebbero donare alla città di Milano, secondo i tecnici e gli esperti di una commissione interna al Comune scelti dall'assessorato alla cultura, rappresenta valori rispettabili ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini e quindi non può essere esposta in Piazza Duse nella zona di Corso Venezia. I primi a non essere d'accordo con loro sono l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e il sindaco Giuseppe Sala. C'è una commissione che non risponde diciamo a me, io però pregherò la commissione di riesaminare la questione, perlomeno ascoltando il mio giudizio, il mio giudizio è che non penso che urti nessuna sensibilità. Non mi sembra che sia un'opera che possa in qualche modo dare adito a qualcosa di offensivo nei confronti di nessuno. La maternità, cioè l'essenza della vita, è stata quindi giudicata divisiva da esperti probabilmente animati da un eccesso di zelo che per non ferire la sensibilità di non si sa chi sono riusciti a fare peggio, imponendo all'arte una brutta copia del politicamente corretto. L'immagine della donna che allatta il figlio fa parte della nostra cultura identitaria e non può in alcun modo offendere la sensibilità delle persone. Regione Lombardia è e sempre sarà aperta a iniziative che valorizzano la cultura e l'arte in ogni sua forma e si rende disponibile, qualora il comune di Milano non trovasse un luogo idoneo, a ospitare quest'opera. Questa è la nota dell'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso. Soddisfatto invece il sindaco Sala per il differimento ordinato dal prefetto dello sciopero dei vigili urbani previsto per domenica in occasione della Milano Marathon. Il sindaco vuole triplicare le pattuglie della polizia locale di sera e nel turno notturno, mentre i sindacati del corpo non vogliono e si appellano a un accordo che risale al 2002. Alberto Carreras. Credo che il prefetto abbia agito con buon senso e abbia fatto una cosa giusta. Ribadisco che la città ha bisogno di più pattuglie e di vigili in giro la sera e la notte. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala a proposito della decisione del prefetto Claudio Sgaraglia di differire lo sciopero della polizia locale di Milano, che era in programma per domenica prossima e che doveva tenerci in contemporanea con la Milano Marathon. I vigili protestano contro la richiesta di Palazzo Marino di aumentare le pattuglie serali e notturne. L'amministrazione vuole triplicarle, 30 pattuglie alla sera e 15 di notte. Per i sindacati della polizia locale si tratta di una violazione degli accordi del 2002, accordi che prevedono che i vigili possano non effettuare i turni serali dopo aver raggiunto quota 70 tra età anagrafica e anni di servizio e possano essere esonerati dai servizi notturni al raggiungimento di quota 60 con le stesse modalità. Oggi il Comune vuole cambiare rotta, regole non più idonee alla situazione attuale, ha ribadito il primo cittadino. La città ha bisogno di più pattuglie in giro la sera e la notte. Troviamo le formule, discutiamo di tutto, però è chiaro che la città ha bisogno di più pattuglie in giro la notte, quindi su questo andremo avanti. Ma la trattativa sta proseguendo come? Sta proseguendo, però sono trattative delicate che purtroppo non sono mai nei tempi che uno potrebbe ipotizzare o sperare, però andremo avanti. Alberi e arbusti intorno al percorso del Filobus 90-91 per realizzare la Milano Green Circle. Il prossimo progetto di Foresta mi è presentato in occasione della conferenza stampa annuale dell'iniziativa nata nel 2019 con l'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030. Sono circa 610 mila quelli finora portati a Milano e nelle aree limitrofe, soprattutto nelle aree limitrofe nell'Internan. Si partirà dal prossimo autunno con la piantumazione di 350 nuovi alberi, oltre 60 mila arbusti ed erbacee perenni a cura dell'agronoma e paesaggista Laura Gatti lungo il percorso filoviario che attraversa i municipi 8 e 9 della città del capoluogo. A questo intervento si aggiungono i circa 300 alberi che saranno piantati al termine dei lavori di realizzazione della corsia riservata della 90-91. Beppe Sala ha parlato anche del processo di ripiantumazione degli alberi che sono stati sradicati e abbattuti dal nubifragio di quest'estate dello scorso luglio. Sentiamo cosa ha detto oggi. Nel frattempo rispetto alla ripiantumazione invece delle aree che hanno avuto danni dal nubifragio l'anno scorso, diciamo ad oggi una buona notizia è che abbiamo comunque già raccolto e non abbiamo finito un milione e mezzo. La piantumazione normalmente vengono fatte verso novembre, quindi cominceremo verso novembre. E' chiaro che la raccolta non è finita perché quando poi anche i milanesi vedranno che si va a ripiantumare magari saranno ancora più incentivati a donare. La cronaca adesso che si apre con la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani Operations S.p.A., società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del Colosso della Moda a seguito di un'inchiesta dei PM Storari e Baima Bollone e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. Indagine con al centro un presunto sfruttamento del lavoro attraverso l'utilizzo negli appalti per la produzione di opifici abusivi e il ricorso a mano d'opera cinese in nero e clandestina. La Giorgio Armani Operations S.p.A., controllata dalla Giorgio Armani S.p.A., sarebbe stata ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo. Non si tratterebbe di fatti episodici, ma di un sistema che si ripete quantomeno dal 2017 sino ai più recenti accertamenti dello scorso febbraio. Questi sono estratti di atti giudiziari, ovviamente. La società ha da sempre in atto misure di controllo e di prevenzione atte a minimizzare abusi nella catena di fornitura. Invece questa è una nota della Giorgio Armani. Si riunivano tra le tombe del cimitero monumentale per pianificare possibili colpi. 12 italiani sono stati arrestati dalla polizia a Milano. Sono accusati di rapina e detenzione di armi, divise delle forze dell'ordine e ovviamente anche droga. Il servizio. 12 persone sono state arrestate a Milano dagli agenti della polizia di Stato, 10 in carcere e 2 ai domiciliari. Si tratta di italiani, di età compresa tra i 40 e i 67 anni, ritenuti responsabili di detenzione di armi e munizionamento, detenzione e ricettazione di divise delle forze dell'ordine e detenzione di droga. L'attività della squadra mobile è iniziata dopo una rapina del 4 novembre 2021 ai danni di un laboratorio orafo milanese in via Sab. I cinque armati di pistole a volto coperto avevano rapinato oggetti lavorati e semilavorati in oro e palladio, oltre ad altro materiale prezioso, per un valore pari a un milione di euro. I poliziotti della sezione reati contro il patrimonio hanno individuato un gruppo di pregiudicati sospettati di essere coinvolti nella rapina. Nel corso delle indagini è emersa la pianificazione di un altro colpo da compiere in provincia di Varese. Nelle perquisizioni sono stati sequestrati un fucile a pompa calibro 12 franchi, una pistola calibro 22 Browning, entrambe rubate, una pistola 7,65 Beretta con matricola a brasa. È stato trovato anche un chilo di cocaina, alcune divise, un distintivo della Guardia di Finanza e divise di corrieri espressi. Per dieci il giudice ha disposto il carcere, due sono andati ai domiciliari. Il gruppo arrestato si era riunito per progettare altri colpi all'interno del cimitero monumentale di Milano. Durante i servizi di pedinamento eseguiti dagli agenti della mobile all'interno del cimitero è stato individuato il gruppo criminoso, riconoscendo fin da subito le fattezze e le movenze di alcuni soggetti che erano raggruppati tra le tombe in modo strategico per poter parlare in modo tale da non essere ascoltati. Nelle mense scolastiche del Comune di Milano gestite da Milano Ristorazione torna il pane dopo la sospensione a causa di frammenti di vetro che erano stati ritrovati, rinvenuti. Ora la società ha deciso di rivolgersi a un nuovo fornitore. Informiamo tutte le famiglie che in seguito alla conclusione della procedura aperta per la fornitura di pane e prodotti derivati, a partire dal 5 aprile riprenderà la somministrazione del pane fresco, quindi da oggi, per tutte le utenze scolastiche e non scolastiche acquistato da un nuovo fornitore. Questo è Milano Ristorazione sul suo sito. Il pane bianco previsto sarà sempre biologico, così come il pane integrale che sarà somministrato il mercoledì e il pane multicereali distribuito il venerdì. Da lunedì 8 aprile, il prossimo, torneranno disponibili anche le focacce per le merende. In queste settimane il pane era stato sostituito con dei grissini. Cambiamo decisamente argomento. Stamani in un convegno svoltosi presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo sono stati illustrati gli esiti del Fondo della Diocesi Diamo Lavoro che dal 2017 aiuta a ritrovare il lavoro attraverso corsi di formazione e tirocini. In 7 anni aiutate 1.332 persone con l'impiego di risorse pari a oltre 4 milioni e mezzo di euro. Anna Maria Braccini Un autentico strumento di politica attiva del lavoro capaci in 7 anni nelle 7 zone pastorali della Diocesi di Milano di fornire opportunità di formazione professionale e di avviare poi a tirocinio in aziende industriali, artigianali e commerciali ben 1.332 persone favorendo l'assunzione di 567 grazie a un significativo impiego di risorse economiche pari a 4,65 milioni di euro. È stata questa una delle cifre più significative emerse dall'Assise che con la partecipazione di esperti del mondo del lavoro, sociologi, rappresentanti di associazioni e aziende, ha puntato l'attenzione sul Diamo Lavoro, il fondo promosso per conto della Diocesi da Caritas Ambrosiana. Una storia che inizia però non nel 2017 ma nel 2008 grazie all'intuizione del cardinale Dionigi Tettamanzi che avviò nella notte di Natale il fondo Famiglia Lavoro. È tutto per uno sforzo complessivo che ha portato la Chiesa Ambrosiana in 15 anni ad aiutare oltre 15.000 persone grazie all'impiego di quasi 33,5 milioni di euro sui 34,5 raccolti. Abbiamo bisogno di un'azione politica che interpreti bisogni e che offra normative e risorse incoraggianti per una società con tante fatiche. Con voce sommessa vorremmo provocare un'alleanza, ha detto l'Arcivescovo concludendo l'Assise. Il fondo che è diventato fondo Diamo Lavoro ha proprio questa finalità di rendere consapevoli coloro che non hanno lavoro, che possono avere stima di sé e riprendere un cammino di dignità. Un contesto socio-economico, culturale completamente diverso. Ci stiamo domandando che cosa si può fare e che cosa si deve fare. Vi ricordo dopo questo telegiornale la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini che questa sera propone un ampio servizio sull'Assise dedicata al fondo con dati e interviste. La politica adesso perché si avvicinano le elezioni europee e il PD presenta la propria lista per questa tornata elettorale o quantomeno spiega per bocca di chi la organizza, quantomeno qui in Lombardia e quindi Silvia Roggiani come verrà composta appunto questa rosa di nomi? Sentiamola. Avremo una lista plurale, avremo una lista che racconta la ricchezza del PD e la ricchezza che il PD vuole portare in Europa. Sicuramente gli uscenti che in questi anni hanno fatto un ottimo lavoro in commissioni chiave e su dossier chiave e fondamentali per la nostra Lombardia e per il Nord-Ovest ma poi anche new entry che partono ovviamente dall'esempio della buona amministrazione nei nostri comuni e da un rapporto solido con la società civile che vuole impegnarsi in politica per provare a cambiare le cose in prima persona. Ha parlato Silvia Roggiani a margine di un incontro, un convegno organizzato al Pirellone proprio dal PD sulle politiche da attuare per il rilancio dell'industria italiana ed europea. Era presente anche l'ex segretario nazionale Nicola Zingaretti, per noi c'era Michele Alanati. Come rilanciare l'industria italiana ed europea? Di questo si è discusso oggi nel corso di un convegno organizzato dal gruppo regionale Lombardo del Partito Democratico. All'evento ha partecipato anche l'ex segretario nazionale del PD e attuale presidente della Fondazione Demo Nicola Zingaretti. Si è partiti dal concetto di politica industriale che, dopo una lunga fase di declino, è tornato ad alimentare il dibattito europeo e in parte italiano sulla crescita. Si è passati quindi ad una riflessione sul rapporto tra investimenti pubblici e privati, evidenziando la necessità di ricostruire i fondamenti di una strategia politica che sappia affrontare le sfide del nuovo millennio. Esaminando poi le conseguenze dell'instabilità planetaria, dovuta prima al Covid ed ora ai conflitti in corso, dell'evoluzione tecnologica e del cambiamento climatico. Secondo gli esponenti del PD che si sono avvicendati in qualità di relatori, è necessario partire dalla dimensione europea, con una leadership tecnologica che determinerà non solo gli equilibri geopolitici dei prossimi anni, ma anche la capacità dei sistemi economici di gestire le sfide della digitalizzazione e della transizione verso la decarbonalizzazione, partendo da un documento che analizza i problemi e indica le possibili soluzioni da adottare. Il documento indica delle soluzioni, innanzitutto la scelta europea, perché è ridicolo pensare a un rilancio dell'industria italiana fuori da un contesto europeo e noi vogliamo un'Europa che continui ad investire, diversa da quella attuale, ma che metta al centro, come dice il professor Draghi, grandi riforme per rifare il sistema produttivo europeo e poi anche in Italia dotarci di strumenti nuovi di governance e di coordinamento. Tema sanità adesso, perché Guido Bertolaso, l'assessore al welfare di Regione Lombardia, da qualche giorno è a Buenos Aires e ha voluto affrontare il tema della necessità di arricchire il corpo infermieristico in Lombardia. È il motivo questo della sua missione in Sud America. Ascoltiamolo. Io qui voglio mettere in piedi un programma di cooperazione bilaterale in modo che ognuno dei due paesi possa trarre beneficio da questa nostra idea e da questa nostra iniziativa. Formare quindi anche qui infermieri argentini che possano pure essere utili al sistema sanitario argentino e alcuni di loro farli venire poi a lavorare, soprattutto in Lombardia, ma le posso garantire che c'è grande attenzione e disponibilità da parte di molte regioni italiane a trascorrere un periodo di lavoro in Italia dove per loro è facilissimo imparare la nostra lingua e poi da un punto di vista sociale e culturale sicuramente si sentirebbero molto più a casa che altrove. Parliamo adesso dei probabili contraccolpi del provvedimento europeo sulle case green che ad esempio a Milano dovrebbe riguardare oltre 30.000 edifici che dovrebbero essere riqualificati. Secondo il Codacons per adeguare un appartamento ai livelli energetici più elevati occorrerà una cifra compresa tra i 35.000 e i 60.000 euro. Quale ripercussione avrà la direttiva europea sulle case green in una realtà come quella di Milano? Molti se lo chiedono e iniziano a spuntare i primi dati. Se l'obiettivo fosse quello di raggiungere la classe energetica D sarebbero oltre 30.200 gli edifici da riqualificare. Senza dubbio un costo esorbitante che non è ancora stato deciso se verrà sostenuto dallo Stato o dovrà gravare sui proprietari. La direttiva infatti ha rinviato ai singoli Stati le modalità su come intervenire. I paesi dell'Europa avranno ampi margini di discrezionalità. Bisognerà sciogliere molti dubbi. Ad esempio se i proprietari non sono in grado di affrontare le spese. Cosa accadrà? Se lo Stato dovesse finanziare gli adeguamenti energetici occorrerebbe una cifra estremamente elevata. In pratica si tornerebbe a parlare di un bonus tipo quello del 110% accusato di aver creato una voragine nei conti pubblici. Per far guadagnare classi energetiche a un edificio occorre realizzare il cappotto nell'involucro esterno. Poi la sostituzione degli infissi, dei vetri e tutto ciò che consente il risparmio di elettricità e gas. Per raggiungere la classe D sono coinvolti non meno di 30.200 stabili. Di questi circa 10.500 solo nella classe G, praticamente la peggiore. 11.400 in classe F e circa 8.400 in classe E. In totale ci sono oltre 577.000 alloggi, 220.000 dei quali in classe G, 218.000 in classe F e 159.000 in classe E. Secondo gli esperti bisogna tenere conto che vi sarà un divario di prezzo notevole tra il valore di un alloggio relativo alle classi più virtuose e quelle peggiori. Secondo Kodakons il costo medio sarà compreso tra i 35.000 e i 60.000 euro ad abitazione. Ci sono le case green e poi ci sono quelle dorate, soprattutto una perché c'è un palazzo di via Montenapoleone che è stato appena acquistato per, pensate, un miliardo e 300 milioni di dollari. Si tratta dell'immobile più caro d'Italia, ci mancherebbe altro. Il palazzo più caro d'Italia si trova a Milano. Il gruppo internazionale del lusso Kering ha infatti acquistato da Blackstone l'edificio storico sito in via Montenapoleone 8 per una cifra che si aggira attorno a un miliardo e 300 milioni di dollari. Si tratta dell'operazione più onerosa mai avvenuta per un singolo asset in Italia. Il palazzo settecentesco era stato acquistato dalla società finanziaria newyorkese nel 2021 per un miliardo e 100 milioni, come parte di un portafoglio di immobili iconici e rientrava in un pacchetto di altri 13 edifici acquistati. Si trova all'angolo con via Sant'Andrea e si sviluppa su cinque piani per un totale di 11.800 metri quadrati lordi, 5.000 dei quali adibiti a superficie commerciale. Il costo al metro quadro è dunque di 110.000 dollari. Oggi in questi spazi si trovano già grandi marchi in affitto, come Saint Laurent, Prada e Cova. L'accordo chiuso tra Gruppo Kering e Blackstone contribuisce a dare una nuova luce al reale valore delle strade del lusso e dello shopping, non solo in Italia. Per il gruppo francese amministrato dall'imprenditore François-Henri Pinot, che ha un fatturato annuo di 20 miliardi di dollari, l'investimento si inquadra all'interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison. Kering che possiede, peraltro, marchi come Gucci e proprio Saint Laurent. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale che termina qui. Vi ricordo dopo di noi le notizie del calcio con Nova Stadio TG, poi l'approfondimento sempre a cura di Michele Marchetti questa sera con gli ospiti a Nova Stadio Sprint e poi in prima serata Adriano Santacroce e la sua linea d'ombra per parlare anche delle tematiche che abbiamo affrontato in questo telegiornale, a partire dalla statua bocciata dalla Commissione del Comune di Milano che tanto ha fatto discutere nella giornata odierna. Grazie per averci seguito e state con noi su questo canale. La Tecnostars Formichetti opera da sempre nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti TV digitali terrestri e satellitari. Impianti dedicati con cave in fibra ottica per portare il mondo televisivo e di Internet in tutte le case. Tecnostars di Formichetti, a Milano, in via Benaco 27, zona Corso Lodi. Ah, interviene anche in caso di problemi di ricezione di telefonia cellulare. Ciao!